Allora siamo il 20 di dicembre del 2020 davanti a casa mia un signore si è fermato mezz'ora fa con una macchina dalla fermata dell'autobus che c'è una sola persona adesso sono 20 minuti che lui sta distribuendo dei sacchetti penso con alimenti non so cosa ci sia dentro e già si è formata la coda e ce ne sarà ancora finché lui non finisce quello che ha nel portabagaglio dentro la macchina ed è così che il governo del PD cioè i comunisti di merda hanno ridotto l'Italia un Natale in questa situazione ma vi rendete conto vi rendete conto la prossima elezione votate PD votate 5 stelle che così vanno insieme ai PD e riducono l'Italia in quello sono mortificata di vedere una cosa del genere mortificata e ringrazio a Dio di avere il lavoro io ma loro non ne hanno ha vergogna una vergogna il governo una vergogna i privati regalano della roba alla gente perché la gente non ha nemmeno da mangiare più chiudere addito Grazie.